Nel Mierino la trasmissione condotta da Nicoletta Bracchi insieme al giornalista Thomas Strenchi ha cercato di capire cosa offre a Piacenza le giovani generazioni e cosa chiedano gli under 30 alla loro città. Allo spazio rotativo sono intervenuti l'assessore alle politiche giovanili Francesco Prianzi, Marta Bonatti e Alice Lombardelli, studentesse entrambe facenti parte di Youth Bank e l'artista Fabio Guarino. Certi ambienti, certi spazi potrebbero essere magari luogo anche per organizzare laboratori mirati non solo a quello che faccio io ma ad attività che possono coinvolgere giovani tra virgolette divorati dalla noia. Una proposta utile e concreta potrebbe essere una carta, una card. Io mi ricollego ad altre città ma banalmente Firenze, Roma, dove quando tu arrivi vai all'infopoint e ti viene data questa tessera con disegnato la cupola del Brunelleschi piuttosto che il Colosseo e tu con quella hai la possibilità di girare e pagare meno in quanto studente o comunque in quanto giovane. Durante la trasmissione, oltre ad ascoltare i giovani, Prianzi ha parlato del bando ANCI Giovani Impresa. Abbiamo portato a casa un finanziamento molto importante dell'ANCI Giovani Impresa che ci permetterà di sostenere iniziative imprenditoriali. È un importo di 187 mila euro. Nel Mierino anche il progetto Youth Bank. È un'iniziativa della fondazione per finanziare iniziative socioculturali a sfondo giovanile. Secondo me la particolarità è proprio che ci sia stato dato del potere decisionale.